Buon pomeriggio, buon pomeriggio amici e benvenuti, anzi ben trovati sulla pagina ufficiale Blue Springs Official. Finalmente sono arrivati i nuovi Maria Rerise 105 S, i nuovi stick bait di casa Maria, sempre confezionati anche troppo bene, ogni volta che dobbiamo aprire la scatoletta una lotta, mi buco sempre le dita. Andiamo ad ammirne uno. Ecco qua, questo è il posteriore della scatolina, dove viene riportato in una maniera, in una grafica un po' piccola, ma al sistema di affondamento dell'artificiale, il fratello più piccolo del precedente Rerise 130, nonché potremmo definirlo un'altra volta, il cugino del rapido e del loaded. Eccolo qua, bellissimo, veramente, veramente bello, come un bambino proprio, quando arriva al giocattolo nuovo. Un'artificiale da 10,5 cm per 40 g di peso. Il punto di forza di questo artificiale è proprio il peso nelle dimensioni contenute, per essere un stick bait. È un artificiale che è stato studiato per la pesca in short casting, come i precedenti artificiali stick bait di casa Maria, ma sicuramente darà grandi, ma grandi soddisfazioni anche per altri tipi di impiego nella pesca. Un artificiale con armatura passante e con ancorine, ma molto, molto generose, per cui penso che non ha paura di affrontare nessun tipo di predatore in acqua. Viene fornito in otto colori, di cui uno Glow e l'altro UV. Io, momentaneamente, ho solo questi tre colori. possiamo trovare i soliti colori di casa Maria, la sardina, il cefoletto, quello bianco trasparente, il rosa, la sardina, quella che sembra che fugge perché è insanguinata, perché ha quelle macchie di rosso. Comunque sono i particolari di casa Maria che da anni ci fanno avere grandi soddisfazioni in pesca. Come ho detto prima, l'artificiale è studiato per lo shore, per lo shore casting. Quindi ha un affondamento di 2, secondi il metro. Non scende appeso, ma quindi ha una discesa molto, molto sfarfallante e molto, molto lenta. A shore deve essere recuperato normalmente come qualsiasi artificiale da shore, quindi dal basso verso l'alto. A spinning, invece, un consiglio che do io è essere recuperato molto, ma molto lento, con delle cercate molto lente, con delle s molto ampie. Quindi dobbiamo uscire fuori dallo schema di far sì che le cercate devono essere molto corte e veloci, quindi qui zig zag frenetici. Più scende lentamente e più l'artificiale entra in pesca. È stato studiato così questo artificiale e quindi così deve funzionare. Ve lo faccio vedere di nuovo. Bellissimo, bellissimo. È un artificiale che ha il massimo dell'azione di pesca dai 5 ai 10 metri. Perché sono così tanto emozionato e euforio di questo artificiale? Perché le dimensioni, le dimensioni 10 centimetri e mezzo, 40 grammi, fanno sì che lo possiamo lanciare a lunghe distanze. E le dimensioni piccole. Per tante volte abbiamo trovato delle mangianze veramente interessanti, ma predavano su piccole alici e su piccole sarde. Noi avevamo questi stick bait grandi e a volte neanche venivano presi in considerazione dai nostri pesci in mangianza, anche se sono mangianze frenetiche. Secondo me è un artificiale che darà grandi, ma grandi soddisfazioni nello spinning in mangianza, sia ai toni rossi che ai toni alletterati. Per cui ragazzi, vi dico, rimanete connessi e seguiteci sui canali ufficiali Blue Springs. Alla prossima e grazie a voi che ci seguite.